Io calendarizzerei una legge che abbia come obiettivo difendiamo l'infanzia. Lassiamo che l'infanzia sia libera, come sono liberi i bambini. Non diamo orientamenti all'infanzia, nel senso che occorre educare i ragazzi. E adesso vorrei infatti parlare di sesso. Il sesso, quello che noi abbiamo conosciuto e praticato, la mia generazione l'ha conosciuto sempre in modo trasversivo, nel senso che abbiamo conquistato lentamente la nostra libertà sessuale contro i nostri genitori e contro i nostri professori che ovviamente tendevano a indicarci una morale unica, cristiana possiamo dire. E quindi ogni libertà sessuale passa attraverso la mancanza di orientamenti obbligatori. Ora, il politicamente corretto, con quella che si chiama legge ZAN, vorrebbe educare i bambini alla indifferenza sessuale. La qualcosa è paragonabile alla pedofilia di Stato. E lo dico non perché devo difendere quelli che oggi vedono la Commissione di Giustizia come il luogo dove qualcuno impedisce che arrivi la legge ZAN. ZAN è un deputato, un giovane, simpatico deputato omosessuale che ha tutti i diritti di essere omosessuale, come io ho tutti i diritti di essere eterosessuale. Ma insegnare a essere indifferenti al sesso e quindi che essere eterosessuali e essere omosessuali è la stessa cosa, è una violenza. Uno deciderà, una volta che ha sentito cos'è dentro di sé, cosa fare della sua vita, diventando serenamente omosessuale o essendo serenamente omosessuale, non pensando che è indifferente essere eterosessuale e omosessuale. Questo è il rischio della legge ZAN. Cara Chiara Ferragni, tu con l'aria di chi ha il potere dei suoi follower, dei tuoi amici, chiedi al Presidente di una Commissione di Giustizia ostellariche della Lega, quindi un nemico, schifoso, di calendarizzare una legge che impone di insegnare a scuola l'identità e l'uguaglianza dei comportamenti sessuali. Noi siamo uguali, uomini e donne, ma non sono uguali i nostri comportamenti, le nostre pulsioni, le quali devono essere totalmente libere. C'è una ragione per cui si indica che le azioni sessuali non possono essere condotte sui ragazzi sotto i 14 anni? E si parla quindi di penofilia? Ebbene, quello che voi chiedete in questo momento è esattamente l'equivalente di una penofilia di Stato, di indirizzare il sesso nella stessa direzione da una parte o dall'altra, che ovviamente può benissimo capitare, uno può perfino essere bisessuale, può non capire bene, ma ci deve arrivare da solo. Non perché qualcuno gli dice guarda che tu stia con un uomo o con una donna, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E io non auguro a voi che il vostro figlio diventi omosessuale o diventi eterosessuale perché qualcuno glielo ha insegnato. Il suo istinto deve essere libero. E ogni volta che vedo i vostri video, io che vi ammiro, vi ho sempre difeso, mi chiedono ma perché voi potete mostrare i vostri figli? Per farli vedere al mondo, per una loro simpatia? Per un'operazione che chiaramente non è un'operazione di poesia, è un'operazione di immagine. Voi, quando mostrate i vostri bambini, fate qualcosa che è utile ai vostri affari. E questo già di per sé non è una cosa particolarmente alta, ma ammesso che sia lecito e che voi possiate farlo, non potete pretendere che a scuola qualcuno, prima che io abbia 14 anni, mi dica cosa deve essere del mio sesso. Non voglio saperne niente. Voglio essere libero di sentirlo crescere dentro di me. Questa è la bellezza del sesso. Non che qualcuno mi dica ma no, ma tu stai con una ragazza, stai con una ragazza, è uguale. Non è uguale. Non è uguale perché se tu stabilisci che un'educazione, un'attività formativa, ti dica che essere eterosessuali o omosessuali è la stessa cosa, tu non soltanto hai superato dei valori morali, quelli cristiani, facciamo finta che non ci siano più, ma hai fatto credere a un ragazzo che quello che è dentro di lui, quello che è il suo istinto, in realtà è assolutamente superato dalle regole, quelle che voi volete, le regole vostre, le regole per cui è giusto che il politicamente corretto ti faccia credere, che sentire desiderio per un ragazzo o per una ragazza è la stessa cosa. Questo non funziona. Dopo 14 anni insegnate quello che volete. quando uno si è già formato nelle sue convinzioni istintive, ma governare gli istinti dicendo è tutto uguale è una forma di perdizione, è una forma di perdita della propria vera identità sessuale. E siccome voi mandate i vostri messaggi per chiedere al Presidente della Commissione Giustizia del Senato di calendarizzare la legge ZAN come se questo fosse il Vangelo, e non è il Vangelo, non è il Vangelo perché il Vangelo è la storia di un uomo che è morto in croce per difendere i valori della famiglia, i vostri valori. ZAN è un bravissimo giovane che difende la sua identità sessuale per paura che qualcuno gli impedisca di esserlo. Ed è giusto che ci sia un'azione di legge per impedire che qualcuno voglia ostacolare la tua omosessualità. Ma imporre l'omosessualità, imporla come se fosse identica ai valori cristiani è una violenza molto più grave. E vi risponde, perché voi sappiate che io non vi parlo né per antipatia né per difendere dei valori ormai superati, i valori del cristianesimo, in fondo, cos'è stato Cristo rispetto a Fedez? Che cos'è Cristo? Ecco, non solo immaginerei di chiedere anche a voi pudore rispetto ai vostri figli, ma forse non è. Questo è un tema dal momento che si è stato usato di far vedere come sono belli, come sono graziosi, potete pure fare quello che vi pare, ma che voi diciate beh, questo bambino che io vi faccio vedere è giusto che diventi omosessuale, perché devo dirgli di no? Lo voglio indirizzare verso una scelta che in questo punto non è più distinto, ma è di norme. Le norme ti dicono che se non ci sta Federico, ci sta Giovanna e quindi il ragazzo faccia quello che vuole senza che nessuno ti dica fino a 14 anni nessuno ti può dire quello che è giusto e quello che è sbagliato, devi sentirlo tu. E' questo istinto, è la libertà dell'istinto che io difendo contro la vostra violenza e per fortuna le femministe come Francesca Izzo sono contro la legge ZAN no alla identità di genere, il sesso non si cancella. In una lettera aperta ai firmatari delle proposte di legge costruite nel testo depositato lì alla Camera le attiviste dell'associazione se non ora quando invitano i legislatori a riflettere sulla terminologia adoperata. Francesca Izzo storica del pensiero moderno e contemporaneo tra le fondatrici del movimento femminista se non ora quando perché criticate il decreto di legge ZAN contro l'omofobia gli chiedono le chiedono chiedono al movimento femminista perché abbiamo scritto una lettera di firmatari delle varie proposte di legge chiedendo loro una riflessione sulla terminologia utilizzata che suscita ambiguità qual è il termine sotto accusa? è il gender ovvero l'espressione identità di genere che è una questione molto controversa le donne in tutto loro lo stesso di liberazione di uscita da una condizione di oppressione sociale hanno messo in discussione il genere che arriva loro assegnato e no il genere non ti viene assegnato il genere è la natura che ti ha fatto essere maschio o femmina hanno ragione le femministe voi non state combattendo contro un leghista medievale combattete contro femministe che vi dicono è giusto che uno sia uomo è giusto che uno sia donna non si può forzare nessuno a essere una cosa diversa dal suo senso il sesso va comunque rispettato se non capite questo fate delle bellissime campagne di moda la legge zen è di moda perché è vero che vanno protetti gli omosessuali ma non vanno costretti i maschi a essere omosessuali e le donne a essere lesbiche occorre essere liberi di essere lesbiche e di essere omosessuali liberi senza che nessuno ti dica puoi esserlo perché tanto va bene no il va bene a un ragazzo che ha meno di 14 anni diventa una forzatura diventa un elemento che lo costringe a fare quello che forse non farebbe che gli fa credere che la legge gli consente di essere quello che non è se è maschio donna se è donna maschio bisogna rispettare il maschio la donna il maschio la femmina e anche quello che non è nell'una dell'altra cosa ma non stabilire che è indifferente il sesso questo vi dicono le femministe questo dovreste imparare cari Fedez e Ferragni rispettare il sesso di vostro figlio rispettarlo potrebbe anche essere che gli capitasse di non essere omosessuale non vorrei che fosse costretto a essere omosessuale questo è il rischio della legge Zanna cari Chiara e Fedez grazie a tutti